Nella strada verso Tokyo e dopo aver celebrato i 70 anni della rivista con l'altro numero, è stato editato questo numero che racconta proprio l'Olimpiadi e il diritto sportivo. Un binomio che va abbastanza in parallelo e non sempre è così armonico perché ci sono stati molti spunti che hanno indotto a delle revisioni del pensiero sportivo. Ma io naturalmente voglio, sono tante le persone che interverranno, per prima darei la parola al padrone di casa, al presidente Malagò. Adesso vedete intanto al tavolo c'è il membro C onorario Mario Pescante ed ex presidente del CONI, Alberto Gambino che è il codirettore scientifico della rivista di diritto sportivo e prorettore ordinario di diritto privato presso l'Università Europea di Roma. E Giulio Napolitano, codirettore scientifico della rivista di diritto sportivo, ordinario diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Roma 3. Io direi di dare la parola ovviamente al padrone di casa. Naturalmente dopo ci saranno altri interventi importantissimi. Vincenzo Iacoianni, direttore responsabile della rivista di diritto sportivo, Andrea Bodi, presidente dell'Istituto di Credito Sportivo che ha contribuito alla pubblicazione di questo, è coeditore di questo volume. Non ci sarà Marina Giannetto perché ha fatto la seconda dose di vaccino e come sappiamo a volte dà qualche problema. Franco Fava, giornalista sportivo ed ex atleta olimpico e Francesco Postiglioni, ex atleta di nuoto e pallannuoto, ha fatto ben quattro olimpiadi, una di nuoto e tre di pallannuoto e medaglia di bronzo nella pallannuoto. Benvenuto naturalmente al padrone di casa. Grazie Novella. Allora, mio saluto, innanzitutto sono le tante persone che mi dicono che sono collegate via internet con questa iniziativa. Ovviamente siamo in epoca di Covid e qui abbiamo limitato gli inviti proprio alle persone della famiglia. C'è una rappresentanza incredibile di tanti rappresentanti di istituzioni e degli organismi sportivi. Sono felice in particolare della presenza femminile senza che nessuno si offenda, di là del ringraziamento a Novella, che ovviamente è un onore Gabriella di averti qui con noi, così come ovviamente vedo le nostre membri di giunta, Antonella del Colle, Norma Gimondi, vicepresidenti Silvia Salis. Insomma, siamo particolarmente felici, Presidenti di Federazione di Discipline Sportive di Antipromozione, Secretario Generale Andrea Bodi, collega e amico Luca Pancalli, che so che dopo anche te darei una tua testimonianza su tutto questo. Ringrazio Giulio Napolitano, ringrazio Alberto Gambino, che sono i responsabili scientifici di questo testo, ringrazio Enzo Iacogliani, che è il direttore responsabile, ringrazio, scusate se ve lo dico, quel signore che è sempre così timido, che sta dietro la scrivania, che è Alvio Laface, che poi è il coordinatore di tutto quanto. Consentitemi un applauso a Alvio, perché veramente se lo merita, persone a cui sono molto affezionato, il Coniglie è assuramente riconoscente, lo stimo tantissimo. E poi insomma il mio fratello maggiore, il mio papà, il mio precursore al CIO, Mario Pescante, che credo e penso che più di tutti possa dare una testimonianza, consentitemi, diviso di presenza di tutto questo. La rivista è un qualche cosa che abbiamo ereditato, però anche nelle epoche complicate non abbiamo mai mollato di un centimetro, anzi abbiamo continuato a crederci, rinforzandola con delle firme prestigiosissime, è un qualche cosa che è molto invidiato, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Vi giuro che quando passo il confine tra le tante cose di cui mi parlano, mi raccontano, ma come fate? Dico guarda, semplicemente abbiamo continuato a credere in questa formidabile tradizione che è diventata sempre di più un punto di riferimento. Poi io sono meno addentro a questo tipo di pubblicazioni, però un giorno sono proprio venuti da me Alberto, Giulio ed Enzo dicendo che avevamo avuto il massimo di riconoscimento da parte dell'Hanburg che attesta una credibilità scientifica che soprattutto chi fa, tra virgolette, questo di mestiere nel mondo dell'ordinamento sportivo a tutti i livelli, anche se ovviamente la materia ormai è clamorosamente allargata. Qui ci sono tanti professionisti, quasi troppo dovessi dire è stata allargata, però sicuramente fa parte oggi di quello che in tante nuove generazioni hanno interesse e piacere di provare a coltivare un sogno da professionista nell'ambito della materia sportiva. Oggi il tema è di grande attualità perché come sapete il 23 tagliamo il nastro della cerimonia inaugurale di Tokyo, siamo all'8 di giugno, fatevi i calcoli, quindi siamo a 45 giorni di un'Olimpiade senza mancare di rispetto per le altre che è diversa da ogni altra. È chiaro che ognuna aveva una sua peculiarità, questa è fin troppo evidente come viene differenziata dalle manifestazioni. Sono molto felice, lo dico anche qui da membro del CIO, che la Presidente del Comitato Organizzatore è stata molto chiara, molto, consentitemi, e quindi precisa di fronte probabilmente alla esigenza di un certo tipo di movimento dei media che chiedevano lumi, informazioni su cosa poteva succedere, cosa stava succedendo, cosa starebbe succedendo lì in Giappone. Ha detto guardate che non è all'ordine del giorno né l'opzione di cancellarla né all'ordine del giorno di procrastinarla, cioè di rinviarla. Perché poi anche qui nel nostro mondo, come negli allenatori di calcio, ogni tanto si sveglia qualcuno e dice vabbè ma che problema c'è, la rifacciamo il prossimo anno senza rendersi conto di che cosa stiamo parlando. Mi permetto anche di ricordare che ha del clamoroso, ma noi oggi siamo all'8 di giugno e esattamente tra meno di sette mesi e mezzo siamo a Pechino, a occuparci sempre di Olimpiadi, di Olimpiadi invernali. In un paese è la Cina che sicuramente dà le più ampie e importanti garanzie sotto il profilo dell'organizzazione e della capacità di aver rispettato in pieno quello che sono i diktat del master plan che vinse contro Astana per ospitare i giochi olimpici del 22, ma insomma qui più di tutti perché non vedo appunto, non so se sono collegati, Andrea Gios e Flavio Roda, però vedo collegami con Luca Pancalli, Olimpiadi e Paralimpiadi, cioè a Pechino, cioè dobbiamo ancora una volta andare a vedere di che cosa stiamo parlando, per cui rendetevi conto anche le complessità che nessuno meglio di Carlo Mornati e la preparazione olimpica conoscono. Un dato che ieri sera mi ha fatto un piacere enorme, che faremo record delle ultime Olimpiadi, come mi sento di dirlo, come delegazione, ieri sera abbiamo staccato il pass a 315 qualificati, di questi 315 154, siamo quasi quasi alla perfetta equiparazione di genere, sono donne, cioè se non ci fosse più nessuna donna qualificata ad oggi già avremmo il record di sempre, siccome penso che diverse altre atlete abbiamo qualcosa nel nuoto, qualcosa nel judo, qualcosa nell'atletica, abbiamo le ragazze dall'8 al 13 giugno che fanno il nuoto sincronizzato, ci sono tutte donne perché così come la ritmica nel programma olimpico diciamo c'è una discriminazione al contrario, ma fermiamoci qua perché sennò tutto viene interpretato in un modo sbagliato, detto questo da una grande soddisfazione che rispetto a quando si è cominciato a parlare i miei predecessori, non solo i presidenti del CONI, sulla rivista, insomma fa riflettere che la prima medaglia del nostro paese fu nel 1936 di Ondina Valla a Berlino, ma non è perché noi italiane non siamo state bravi a vincere le medaglie prima del 1936, no perché le donne non potevano partecipare ai giochi olimpici, per cui di strada se ne è fatta tanta, era solo una riflessione per quello che è stata l'evoluzione e devo dire la verità, il CIO secondo me è stato al passo coi tempi, poi come tutti quanti, nessuno escluso, ci sono diciamo le proprie criticità, le proprie complessità, però bisogna dare atto che in questi formidabili momenti di tempesta e di Marosi, una delle cose sicure, un porto certo è proprio la comunità del Comitato Olimpico Internazionale. Grazie alla vostra presenza, credo che questa rivista sia veramente qualche cosa da conservare, da leggere, perché i saggi, uso questa parola, che sono contenuti, ringrazio tantissimo Marina Giannetto, che è la sovrintendente dell'archivio storico della Presenza Repubblica, partiamo da tutto quello che è stata la grande storia del rapporto tra il Quirinale, il Presidente Repubblica e il Comitato Olimpico. Questa storia che si arricchirà di una nuova puntata il 23 di giugno, dove insieme agli amici del Movimento Paralimpico andremo a ritirare il tricolore e lo porteremo con orgoglio a Tokyo. Grazie a tutti e grazie a Novella, lo dico io, perché come sono arrivato mi ha detto presso, sono preparata, giuro l'ho letto tutto. Ma io sono secchiona, si sa, allora per dimostrarti che l'ho letto tutto anche dalle prime pagine volevo sottolineare una frase che hai scritto tu nella prefazione e che credo sia estremamente importante, che lo sport è una forma di cultura e che deve essere assolutamente, deve ritornare a quello che era in fondo nell'antica Grecia, l'Olimpiade era una competizione tra le arti, tra cui lo sport. E chi meglio di Mario Pescante, che di questo ha scritto tantissimo, ma soprattutto poi Mario Pescante, se parliamo di diritto, ha anche avuto un'esperienza importante come rappresentante del Movimento Olimpico internazionale all'ONU. Quindi per dire quanto lo sport, l'abbiamo visto in tante occasioni, anche nel nostro Paese, può superare le barriere che spesso invece vengono messe dai politici. Sono sempre timoroso di queste presentazioni perché assomigliano sempre di più a un cronologio, per cui ti ringrazio comunque per le cortesi parole. Ma io sono stato invitato e li ringrazio sia il Presidente Giovanni Malagò che è il direttore della rivista, l'amico Iacoianni, perché mi è stato rivolto un invito, immagino, anche e soprattutto per ragioni anagrafiche, perché nella lettera che mi ha scritto Giovanni ha fatto riferimento, bene o male, molto garbato, anche insinuante, al tempo che è trascorso, 72 anni di esistenza della rivista, vissute accanto al CONI e di questi 72 anni, diciamo così, che un mezzo secolo ho avuto la possibilità di convivere anch'io con la rivista. Prima nel protostorico anno del 1973 come segretario generale, e poi negli anni 90 come Presidente del CONI e quindi direttore della rivista. Bene, io ho chiesto pertanto libertà di intervento, Giovanni, che mi è stato concesso. Io un argomento vorrei toccare con delicatezza, perché non è mio compito e soprattutto non è questa l'intenzione, cioè non è un intervento politico, nel senso che mi piacerebbe ritornare ai tempi in cui con la rivista di diritto sportivo nacque l'ordinamento giuridico sportivo, base e fondamento di quello che poi nel futuro sarà, non tanto futuro, ma pochi anni dopo, il discorso della indipendenza e autonomia del mondo sportivo. Ecco perché della storia del CONI sapete tutto, ma di questa vicenda dell'instituto sportivo non so se è stato un discorso che è stato trattato, anzi ovviamente il direttore degli anni si progetta verso il futuro, e allora un occhiatino al passato forse avrebbe la pena darle. A cosa mi riferisco? Mi riferisco che questo discorso dell'ordinamento sportivo fu molto dibattuto e il laboratorio, chiamiamolo il cenacolo esageratamente, dove si svolge questo dibottito, fu proprio il comitato scientifico della rivista di diritto sportivo. Perché era nato? Perché durante il dopoguerra la prima reazione che ci fu del governo democratico più quella di spazzare via i residui del passato. Tra questi c'era anche il CONI. Fu nominato un commissario liquidatore, che poi con il tempo è stato letto nel 1947, non tanto tempo, un presidente del CONI, e che insieme al segretario generale Sauli, all'epoca, decisero di dotarsi di uno strumento che potesse difendere sul piano giuridico il discorso della indipendenza e autonomia dell'ente. Per fare questo si doveva parlare a partire dalla indipendenza dell'ordinamento giuridico. Cosa non facile. Bene, questo comitato scientifico fu frequentato all'Equa, dimenticherò molti nomi, alcuni non ci sono più, altri sono ancora a servizio delle istituzioni, ma insomma personaggi conosciuti al di là del mondo giuridico, come Vassallo, come Sabino Cassese, come Nicolò, come Albanese, omonimo credo, omonimo Albanese, sono stati l'anima di questa rivista di trascoltivo. Ebbene, che cosa succede? Nominato Onesti, eletto Onesti nel 1947, nel 1948, non ha perso molto tempo, Onesti decide di valare questo strumento, che si chiamava rivista di diritto sportivo. Il comitato scientifico lavorò, lavorò partendo da un saggio, in uno dei primi numeri della rivista di diritto sportivo, un saggio di Massimo Severio Giannini, che non ho citato prima, perché è il personaggio che emita il sbradino più alto del podio, del discorso dell'ardinamento dell'autonomia. pubblica sulla rivista o il primo o il secondo numero, questo è un discorso storico, il tema era riflessioni esattamente. Albanese non è solo omologo del precedente, e compare questo articolo sull'ordinamento sportivo. viene approfondito in un dibattito intenso dove i consensi e i punti di diritto non venivano da tutti e questo saggio è stato il punto di partenza di un dibattito che poi è terminato all'interno dell'istituto, della rivista sportivo, ma anche all'esterno con alcuni punti fermi, disturbando anche il Santi Romano, se non vado nell'altro. cioè la tesi della pluralità degli ordinamenti sportivi e tra di essi la tesi del riconoscimento dell'ordinamento giuridico sportivo come, per la sua specificità, come autonoma. E' da qui che poi è nato il discorso di un'autonomia per la legge. Termino dicendo che cosa. Io vorrei riferire solo una frase che è stata pronunciata proprio in questa sala da Corrado Calabro, il quale nel 2019 in una riunione credo proprio che aveva come oggetto la rivista di trasportivo, non so se Iagoiani c'era all'epoca, disse, leggo testualmente, raramente una rivista è stata contrassegnata al suo esordio da un articolo così folgorante come quello di Giannini che segnò la nascita della rivista di trasportivo ma anche l'affermazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Aggiungerei io di mio che raramente una rivista durante i suoi 70 anni di vita si è fatta costantemente paladina sul piano giuridico ben inteso anche dell'indipendenza del mondo sportivo anche quando questa conquista è stata messa in pericolo. Concludo dicendo che sono alla fine del tempo concesso per l'intervento di aver lasciato chiuso come dire l'angolo dei ricordi ma non me ne dispiaccio perché credo che quella intuizione del grande Giulio del grande Giulio onesti insieme alle considerazioni di Massimo Severo Giannini e a quelli che hanno lavorato con lui sia ancora così attuale che siano non è solo un ricordo ma oggi può essere considerato un insegnamento fondamentale al quale fare riferimento nel presente e per trasmettere anche al futuro dello sport prossimo o no? grazie grazie presidente e proprio l'autonomia dello sport è sempre un argomento di estrema attualità in cui il presidente Maragò ha combattuto molto per mantenerla e che ovvio perché lo sport è una è una piattaforma talmente importante nella nostra società che spesso c'è il tentativo dell'assalto alla diligenza no? perché è da una una notorietà o una contatti approvazioni vetrina rapporti internazionali e quindi ovviamente è un una meta molto ambita però l'autonomia dello sport è sacrosanta perché lo sport deve garantire poi quella che è l'attività sportiva ma diciamo anche che a volte si dice ah ma lo sport oggi non è più quello di una volta però io vorrei chiedere proprio al professor Gambino lo sport in fondo è lo specchio della società non è che è un'isoletta lontana sicuramente ha una capacità di difesa da determinate invasioni più forte però è come dire ci sono dei mutamenti sincroni tra quella che è la società e quello che è lo sport come come difendersi come affrontarla e soprattutto quanto è importante lo sport nell'educazione perché questo aspetto forse per un retaggio degli anni che furono è stato un po' sottovalutato ma quale altra attività può dare un'educazione civica alla persona se non lo sport aspetti che lo disinfetta aspetti che lo disinfetta aspetti per che è il secondo volume abbiamo pubblicato un paio di anni fa grazie anche all'aiuto del credito sportivo un volume sui 70 anni della rivista di diritto sportivo e questo è sulle olimpiadi e il diritto sportivo e in effetti e questo è davvero un preziosito dal lavoro degli archivi del Quirinale è una carrellata sui costumi sulla cultura anche in qualche modo sulle metamorfosi che ci sono state dentro la società italiana e di conseguenza dentro il diritto sportivo in fondo è un'operazione culturale stiamo cercando di sdoganare il diritto dalla sua nicchia molto acuta puntigliosa legata soprattutto alla giustizia sportiva e ovviamente è una ricchezza della rivista di diritto sportivo però vorremmo andare oltre vorremmo rappresentare il fenomeno sportivo come un punto di riferimento della nostra arcata costituzionale nella quale effettivamente manca un richiamo al diritto allo sport lo troviamo nell'educazione lo troviamo nel diritto inviolabile della persona nella personalità di ciascuno di noi che è fatta ovviamente anche di attività sportiva allora culturalmente segnare il tempo con dei riferimenti alla giurisprudenza del diritto sportivo qui ci sono dei casi se ne parlerà nella seconda parte sulla partecipazione giochi olimpici perché la bandiera e l'inno non appartengono al coni ma appartengono allo Stato perché comunque si può partecipare alle olimpiadi anche senza la bandiera e l'inno questo è interessantissimo questo profilo da un punto di vista culturale perché proprio l'autonomia che fa sì che ci siano alcuni segni che appartengono per costituzione italiana al territorio allo Stato e lo sport invece nella sua dimensione transnazionale ha delle regole che consentono una partecipazione alle olimpiadi anche per certi versi a prescindere da alcuni segnali strettamente territoriali questa è una riflessione culturale altissima ricordate i giochi di Mosca i giochi di Los Angeles e cosa significa questo? Significa che effettivamente entra abbiamo avuto in uno dei convegni una bellissima relazione di Pietro Riscigno che è un grande civilista italiano uno dei maestri che nella teoria dei corpi intermedi segnalava come gli ordinamenti giuridici possono nascere anche in assenza dello Stato purché ci sia l'osservanza da parte dei destinatari di queste regole lo Stato ha una funzione potremmo dire ancillare di creare a questo punto i presupposti le premesse e di evitare ovviamente che ci sia un conflitto tra alcuni principi del diritto sportivo con i principi dell'arcata costituzionale quindi da questo punto di vista è interessante oggi non c'è Marina Giannetto ma andarsi a leggere i discorsi dei capi di Stato guardate sono anche il linguaggio dei capi di Stato gli anni 50 gli anni 60 gli anni 70 potremmo dire si veniva dalla guerra e c'era anche quella semplicità nel dialogo con l'uditorio che traspariva da una in qualche modo semplicità istituzionale che certamente abbiamo ancora oggi è stata anche per gran parte recuperata anche dalle ultime presidenze però è il segno di come le istituzioni dentro lo sport hanno sempre avuto una funzione di dare maggior valore anche in termini anche in termini culturali ne faremo altre di iniziative editoriali come questa con Giulio Napolitano abbiamo grazie al presidente Malagori ripreso un po' le redini di una rivista che tra l'altro siamo stati da apripista perché proprio l'altro ieri una seconda rivista di diritto sportivo è entrata nell'Olimpo della fascia A considerate quanto è potente la cultura dentro la fascia A significa che l'Olimpo delle riviste scientifiche dove si formano i professori universitari perché possono spendersi come titolo nei concorsi pubblici gli articoli pubblicati sulla rivista fino a un paio di anni fa zero e cioè il diritto sportivo non aveva dignità accademica perché quando non è una rivista di fascia A significa sostanzialmente che sta dentro il diritto amministrativo il diritto privato il diritto dell'Unione Europea grazie a questo progetto in cui molti hanno creduto è stata accreditata nella fascia A e ieri l'altro ieri un'altra rivista il diritto il diritto ed economia dello sport quindi possiamo dirlo perché siamo sempre anche in grande rapporto con le altre riviste è entrata anch'essa nella fascia A pensate quanto è stato potente questo progetto editoriale in decenni non c'era il comparto del diritto sportivo nell'Accademia Italiana nel giro di due anni abbiamo fatto davvero da prepista questo la dice anche lunga sul contributo in fondo dei giuristi che certe volte vengono visti un po' solo come addetti ai lavori invece hanno spesso un respiro anche che va ben oltre il mestiere del cercare di convincere persuadere gli organi della giustizia sportiva grazie 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 per questo escluso in effetti leggendo il libro si è un io ho trovato un linguaggio che avvicina anche chi giurista non è anche perché c'è proprio un un viaggio attraverso la trasformazione del diritto sportivo l'aggiornamento di quello che è il diritto sportivo alla situazione che ogni ciclo olimpico ha portato e anche ovviamente alle alla politica internazionale ed è proprio di questo che io vorrei chiedere a Giulio Napolitano cioè movimento olimpico e diritto sportivo un binomio che a volte si è scontrato in alcuni su alcuni aspetti perché prima giustamente il professor Gambino citava la bandiera e l'inno che sono dello Stato e che gli atleti possono partecipare senza a titolo individuale però questo avviene oggi un tempo questo non c'era non c'era la famosa apartheid diciamo l'apartheid delle nazioni che avevano l'apartheid o che non rispettavano i canoni della carta olimpica e non potevano proprio partecipare io ricordo per esempio la Muriel una nuotatrice che faceva record del mondo che non gli veniva riconosciuto perché era sudafricana ma di questo poi parleremo anche dopo ecco io vorrei proprio chiederle il rapporto tra diritto sportivo e movimento olimpico internazionale grazie innanzitutto piacere di essere di nuovo in questa sala con con tanti amici e con i vertici dello sport italiano dopo un anno molto difficile per tutti e il piacere di essere qui a presentare questo volume Alberto generosamente ricordava che vi è ora una seconda rivista che è stata accreditata nel sistema delle riviste scientifiche però proprio questo volume ci spiega l'importanza del patrimonio che rappresentiamo e che continuiamo a coltivare che cerchiamo di coltivare il meglio possibile e il patrimonio della rivista di diritto sportivo è parte integrante del patrimonio del CONI prima il presidente Pescante ricordava come in effetti fu proprio la decisione di istituire la rivista uno dei momenti più importanti nell'opera di Giulio Nesti e nell'opera di difesa e di reinvenzione del CONI dopo la liberazione e tutto sommato io credo che l'importanza di coltivare questo patrimonio anche grazie al prezioso supporto dell'istituto per il credito sportivo ci dia un messaggio anche più generale ci consegna un messaggio anche più generale cioè che le istituzioni contano e le istituzioni vanno difese alimentate sostenute non è possibile con un tratto di penna anche se il tratto di penna è quello del legislatore cancellare quelle che sono le nostre tradizioni amministrative culturali e invece è la forza di queste tradizioni che consente anche con l'opportuno rinnovamento con le opportune riforme di andare avanti e questo vale io credo a maggior ragione per un movimento come quello sportivo che è così importante per l'intera società italiana per l'intera cultura italiana questo volume lo ricordava prima Alberto è il secondo tentativo di appunto riprodurre antologicamente la ricchezza di questo patrimonio e questo è stato possibile dicevo oltre al supporto lo ricordavo prima dell'istituto per il credito sportivo grazie al continuo appoggio che abbiamo trovato nel presidente Malagò in passato esordiva nei convegni ricordandoci come all'inizio fosse un po' perplesso sulla rilevanza di questa rivista non nel suo valore intrinseco ma da non giurista la guardava con il giusto sospetto che ognuno deve nutrire nei confronti dei giuristi di questa strana comunità e però invece è stata una scommessa vincente nel senso che credo sia dimostrato giorno dopo giorno come al di là del sapere specialistico questa rivista sia appunto parte integrante della cultura e della storia del CONI quindi un grazie particolare anche per questa ragione soltanto qualche spunto di riflessione anche ripercorrendo sfogliando le pagine di questo volume insomma l'esperienza del movimento sportivo internazionale è stata sempre contrassegnata dal diritto dalla ricerca di uno spazio di autonomia e di efficacia di un ordinamento che naturalmente si doveva muovere tra gli scogli della statualità cioè in mezzo alle pretese degli stati di affermare la loro superiorità e nonostante la difficoltà di questa sfida io credo che il Comitato Olimpico internazionale sia riuscito a vincerla sia riuscito a ritagliarsi un suo ruolo indipendente autonomo da quello degli stati mostrando volta per volta anche la capacità di prevalere nel suo dominio ogni volta che sorgesso un conflitto tra uno stato che affermava di voler esercitare la propria sovranità ma doveva poi arrestarsi di fronte all'imperio dell'ordinamento sportivo internazionale se voleva accedere alla comunità sportiva internazionale e alcune di queste vicende storiche sono qui molto ben ricostruite compresa quella che riguardò l'Italia rispetto alla partecipazione agli Olimpiadi di Mosca nel 1980 con quella soluzione che alla fine fu diciamo parte dell'astuzia politico-istituzionale dell'Italia anche nelle suoi pagine migliori e che ci consentì comunque di partecipare in modo importante fino a ricordare le grandi vittorie di Pietro Vennè e di Sara Simeoni in quella Olimpiade ebbene è interessante sfogliando il libro ricordare che anche quella vicenda ebbe un momento di conflitto giuridico nel senso che la delibera del CONI sulla partecipazione fu impugnata davanti al giudice amministrativo e già allora il giudice amministrativo con una sentenza coraggiosa ben annotata da Marani Toro nella rivista confermò la validità e la legittimità di quella decisione noi oggi vediamo come molti conflitti anche a livello internazionale si stiano progressivamente giurisdizionalizzando che cosa voglio dire che momenti di inevitabile tensione a livello geopolitico hanno anche il loro riflesso o una loro specifica manifestazione a livello sportivo e abbiamo avuto delle decisioni molto difficili soprattutto in materia di doping che però proprio per il loro impatto e la loro rilevanza hanno finito per avere anche conseguenze geopolitiche penso a tutto il caso che ha coinvolto la Russia ecco quello che in passato sarebbe stato un conflitto puramente geopolitico fino ai livelli più alti invece lo dico dall'osservatorio privilegiato del del TAS di Lausanna invece hanno avuto un componimento e un giudizio particolarmente ricco e articolato in seno al TAS e tra l'altro mi piace ricordare con il contributo fondamentale di un nostro carissimo amico il professor Luigi Fomagalli che è uno degli arbitri più rispettati a livello internazionale nel sistema appunto dell'arbitrato sportivo ora ci apprezziamo le Olimpiadi di Tokyo e ben ricordato anche nel volume questo imporrà un nuovo impegno del 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 TAS con una camera ad hoc e con quella giustizia da amministrare in tempi molto rapidi molto veloci si dice efficacemente in un articolo della rivista la giustizia in 24 ore nei casi almeno ordinari e questa sarà una sfida ulteriore e aggiungo lo diceva il presidente Manago all'inizio con la peculiarità della pandemia che stiamo vivendo speriamo superando che è destinata inevitabilmente anche a sollevare nuove questioni dal punto di vista giuridico abbiamo visto nella giurisprudenza nazionale ma io credo che anche alcune modalità speciali della convivenza sportiva a Tokyo si riverberanno anche nel nel contenzioso che dovrà essere amministrato in quella sede e quindi penso che nuove pagine della nostra rivista e un domani di antologie come queste saranno scritte nelle prossime settimane grazie ancora grazie e sicuramente pagine importanti saranno scritte anche dagli atleti perché poi se manca la materia numero uno dire gli atleti che competono tutto il resto rimane vano quindi giustamente le istituzioni vanno difese e poi ricordiamo sempre che il comitato olimpico italiano è stato sempre stato preso ad esempio a livello internazionale come modello e quindi a maggior ragione va difeso nella sua autonomia nella sua integrità io a questo punto direi che posso ringraziare tutti gli intervenuti ovviamente per quanto riguarda il presidente Malagò il professor Gambino il Mario Pescante ex presidente del CONI Giulio Napolitano e invetterei invece il secondo panel con Vincenzo Iaccoianni Andrea Bodi Franco Fava Francesco Postiglioni e soprattutto Luca Pancalli presidente del comitato paralimpico che è uno dei più citati in quelle lettere che i presidenti della Repubblica hanno sempre i messaggi che il presidente della Repubblica hanno sempre rivolto alle alle delegazioni italiane ribadendo l'importanza dello sport nell'educazione e nell'integrazione a maggior ragione per quanto riguarda lo sport paralimpico la cosa divertente almeno per me divertente e curiosa è che in questa fantastica riepilogo di tutte le parole dei presidenti discorsi interventi e messaggi dei presidenti della Repubblica c'è come diceva prima il professor Gambino un cambiamento del linguaggio dagli anni 40 ad oggi ma c'è sempre il compiacimento del risultato e l'incitamento a sognare ecco inizierai proprio dal direttore della rivista di diritto sportivo perché direi che questa parte che è un pochino meno che va un pochino oltre gli aspetti giuridici però che sottolinea quanto lo sport sia sempre stato dagli esordi della Repubblica ad oggi un elemento importante nel messaggio dei presidenti della Repubblica forse lo dobbiamo disinfettare è già posto una delle cose più interessanti delle tante che ha detto l'amico Mario Pescante è stata la rievocazione di quello che è avvenuto alla fine del conflitto del secondo conflitto mondiale della tragedia che è stata per l'Italia delle cose che si sono salvate perché quando capitano questi eventi la tendenza è quella di cancellare tutto quello che c'è stato prima e la grande intuizione Mario l'ha raccontata benissimo l'ho sentito raccontare anche da altri molte volte l'intuizione di del vero del vero creatore di questa struttura è stata quella di riuscire a trasformare la sua funzione di commissario liquidatore nell'iniziatore di un nuovo modello sportivo che esiste ancora oggi e quello che dice la signora Carigari sia assolutamente vero e un giusto compiacimento da parte della politica nei confronti dello sport tenendo presente che per una parte diciamo della politica post bellica lo sport rappresentava un modello negativo del precedente regime niente di più sbagliato io penso e fra le cose che si sono salvate non dimentichiamo anche questa sala con tutte le effigi che non sono proprio come dire molto attuali ma che comunque rappresentano un passato che non è possibile e non è giusto cancellare perché c'è stato quindi il contributo che la politica può dare a questo tipo di ai risultati sportivi al di là del compiacimento perché poi quando vince una nazione ovviamente di riflesso è come se avesse vinto il governo facciamo finta che sia che sia così ma nella realtà dobbiamo riconoscere il nostro paese che una struttura come la nostra come quella nella quale ci troviamo adesso è unica spesso criticata più in Italia che all'estero ma sicuramente molto invidiata e vorrei un attimo fare riferimento proprio al concetto della nostra rivista che fa parte di questo mondo è vero quello che dice Mario se ne è sentita la necessità l'ho letto tante volte che il CONI si dotasse di una rivista di diritto sportivo ma c'è stato un salto di qualità nel 2015 a mio giudizio e le persone che ha il merito di questo salto di qualità sono qui sono sostanzialmente il professor Gambino il professor Napolitano e ovviamente il presidente del CONI che ha accolto questa istanza la rivista di diritto dello sport la vivo da presidente federale era una di quelle delle tante carte che ci arrivavano che ci arrivano ancora adesso in federazione alcune delle quali si leggono perché hanno un'importanza diretta nella nostra attività e altre che fanno parte diciamo di quello che si riceve appunto dalla struttura nel 2015 si è inteso dare una propulsione nuova a questa rivista secondo me con un passaggio fondamentale che è quello del sottoporre e l'importanza di questa rivista chiedendo contemporaneamente il loro contributo di idee alle federazioni di questa di questa opera definiamola di manovalanza mi sono occupato io personalmente nel senso andando a tutti i colleghi che se lo ricorderanno andando a dire ma perché non ti devi abbonare a questa rivista ma soprattutto perché non devi dare il contributo di idee sotto forma per esempio giurisprudenziale da parte dei vostri organi di giustizia facendo confluire nella rivista quelli che sono i lavori che vengono effettuati da parte degli organi di giustizia ovviamente anche e soprattutto in base alle dimensioni di quelli che sono l'attività degli organi di giustizia e i relativi contenziosi credo che questo abbia dato un grande apporto ovviamente il presidente del CONI io la perplessità della quale parlava Giulio non me la ricordo da parte di Giovanni però deve essere stata una perplessità passeggera perché poi tutto questo questo nuovo impulso dato alla rivista e dalla quale poi scaturiscono opere come questa come quella del settantaneale come quella di oggi sono secondo me il la l'effetto di questa nuova di questa nuova vista della rivista concludo con una una questione della quale ho parlato sia con 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 il professor Gambino e con il presidente del CONI sul fatto che si potrebbe trovare un'ulteriore evoluzione del nostro messaggio rivolto ovviamente agli operatori del diritto sportivo e alle federazioni delle quali sono sono sempre più convinto che debbano essere i maggiori fruitori quindi la creazione di una sorta di piattaforma informatica sulla quale far confluire le notizie chiamiamole così genericamente possono essere sentenze possono essere nota sentenze possono essere contributi di carattere giuridico che vengano selezionate con riferimento al prodotto non solo di ciò che arriva dalle federazioni ma anche da quelle che sono le attività diciamo giurisdizionali e giuridiche relative allo sport e messe a disposizione su questa piattaforma che possa essere collegata alla rivista e quindi essere un ulteriore strumento di diffusione del messaggio e comunque qualcosa un servizio che venga offerto direttamente dal CONI oltre a ciò che la rivista fa e concludo con un po' di polemica forse forse la politica e il mondo in genere dovrebbe accorgersi di quanto il CONI fa nei confronti dello sport italiano non sarò mai di quelli che si augureranno a dire facciamo in modo che il CONI non ci sia più poi vediamo cosa succede perché gli effetti sarebbero credo assolutamente devastanti e non recuperabili grazie a tutti e con questa provocazione dovremmo rivolgerla però ad un altro auditorio perché dovremmo andare un pochino fare qualche chilometro più in là io direi che sempre io ritorno un po' ai discorsi dei Presidenti della Repubblica e devo dire che il più citato in assoluto all'interno dei vari discorsi è Luca Pancalli perché ovviamente se Saragat sottolineava che superare la montagna con la volontà è la vittoria su se stessi dall'altra parte abbiamo altri Presidenti che hanno sottolineato come anche il rispetto della diversità era estremamente importante e questi sono direi dei fondamenti della storia dello sport e se vale per i normodotati vale ancora di più per i diversamente abili e anche per il Comitato Paralimpico che ha anche una missione in più da svolgere oltre a quella dell'educazione che vale per tutti io ringrazio novella della tua benevola lettura non credo di essere il più citato perché mi attribuisci qualcosa che francamente non merito però tento un attimo di mettere ordine alle riflessioni che mi sono state in qualche modo stimolate non soltanto dall'intervento dell'amico Iacognani ma soprattutto del primo panel di relatori ringrazio Giovanni nella nostra straordinaria amicizia e reciprocità nella dialettica istituzionale stiamo veramente mostrando che il mondo dello sport italiano ha poi una sola medaglia con due facce ma che viaggiano all'unisono e di questo ti ringrazio perché sei sempre stato vicino al fratello minore e ringrazio soprattutto dell'iniziativa editoriale perché chi ci ha creduto naturalmente il CONI naturalmente il credito sportivo naturalmente chi ci ha lavorato il professor Gambino il professor Napolitano perché io credo che quando si produce qualcosa o meglio si pubblica qualcosa e l'intenzione è quella di rendere pubblico quindi condividere comunque una straordinaria operazione culturale come la si voglia leggere o come la si voglia mettere produrre qualcosa e rendere partecipi altri soggetti rispetto a coloro che hanno prodotto lo sport editoriale significa far crescere un pezzettino di cultura secondo perché io penso che la storia dello sport italiano anche attraverso la narrazione del cambiamento del diritto sportivo è in parte storia del cambiamento del nostro paese ma questo credo che insomma ce lo insegnano all'università una delle prime cose perché è vero che il legislatore legifera per indurre cambiamenti ma anche per cogliere i cambiamenti di quello che prima parlavamo essere il diritto naturale che sfocia nella quotidianità e nelle constitutini e soprattutto il diritto fotografa situazioni economiche politiche e sociali quindi è importante nella narrazione della vita di un paese e dice ma questo che ci azzecca con la domanda che ti ha fatto no ci azzecca perché naturalmente in questo cambiamento del nostro paese è intervenuto anche il cambiamento dell'atteggiamento nei confronti di quel pezzo di mondo sportivo la cui narrazione è stata estremamente difficoltosa ma che comunque ha aiutato questo paese a progredire e qui c'è uno dei testimoni ai quali io sono sempre profondamente grato di aver attivato questo cambiamento che è Mario Pescante perché se non fosse stato per lui all'epoca il presidente Carraro saper intercettare quello che stava avvenendo di lì la sensibilità della dirigenza sportiva probabilmente non saremmo arrivati dove siamo arrivati poi il rapporto con Giovanni che ha compreso condiviso e abbiamo individuato una strada che naturalmente ci ha portato dove ci ha portato però questi cambiamenti si notano soprattutto nell'uso delle parole io questo testo impreziosito dagli interventi dei presidenti della Repubblica naturalmente secondo me rappresenta veramente qualcosa che vale la pena conservare sulla propria scrivania perché attraverso questi interventi veramente c'è nelle parole nell'utilizzo delle parole nelle attenzioni dedicate un mondo che cambiava grazie allo sport italiano grazie al CONI e poi grazie al Comitato Italiano Paralimpico quando è nato perché vedete io ne ho insomma nella mia vita sportiva ne ho conosciuti tre da atleta ho partecipato diciamo tre Presidente della Repubblica da atleta e tre da dirigente sportivo il vero cambiamento noi lo segniamo dal dal Presidente Pertini poi in ordine Scalfaro Napolitano e Mattarella oggi perché perché Presidente Pertini se lo ricorderà Mario noi non eravamo invitati alle cerimonie al Quirinale nell'84 un giovane atleta di ritorno da quelle che erano le nostre Paralimpiadi prende carta e penna no anzi un Olivetti di mio padre dell'epoca e scrissi al Presidente della Repubblica rammaricandomi del fatto che altri campioni che tornavano alle loro Paralimpiadi pur vestendo la stessa maglia azzurra e pur onorando quello stesso tricolore simbolo di unità del nostro paese non venivano assolutamente ricevuti e Mario si ricorderà che da quel momento venimo ricevuti anche noi in tutte le occasioni ma dagli interventi io non l'ho letto perché naturalmente no naturalmente non ho avuto modo ancora di vedere libero ma ricordo gli interventi anche nel linguaggio siamo passati dagli handicappati ai portatori di handicap ai disabili ai diversamente abili ai paralimpici e in questo c'è la storia di un cambiamento reso possibile grazie allo sport quando giustamente diceva dall'inizio lo sport è cultura la più grande dimostrazione che lo sport è anche cultura ma soprattutto è politica è la capacità di sapere interpretare un paese che cambia sotto il profilo economico sociale e politica la si ha proprio paradossalmente in degli interventi in cerimonie del capo dello Stato e io devo dire che nell'attenzione all'uso delle parole ma soprattutto nell'attenzione riservata dai capi dello Stato al mondo che io rappresento che mi sono onorato di rappresentare da atleta e che oggi da un po' di tempo lo faccio come dirigente ho colto tutto il cambiamento del nostro paese questo non significa che naturalmente si sia arrivati al risultato finale ma significa che lo sport italiano quando si afferma che è un pezzo di cultura e di politica del paese lo abbiamo dimostrato coi fatti perché quello che è avvenuto quello che è avvenuto sotto il profilo ordinamentale la nascita di un nuovo ente pubblico nessuno lo avrebbe mai potuto immaginare io lo chiamo sempre il fratello minore del CONI ma è la rappresentazione di qualcosa che viene studiato nel mondo perché è studiato nel mondo e noi dobbiamo orgogliosamente ricordarlo ma che ha inciso positivamente nelle trasformazioni oggi nessuno parla più di sport per disabili Franco se lo ricorderà pure voi utilizzavate nell'approccio terminologico nella sciatteria terminologica non vostra ma dell'epoca un termini che non avevano senso come se esistesse uno sport particolare per persone particolari e non esistesse l'unicità del valore dello sport ecco oggi si è approdati allo sport olimpico e paralimpico che non fa più riferimenti a connotazioni o aggettivazioni corporee ma fa riferimento a aggettivazioni di riconduzione a organismi internazionali ecco nel diritto nelle norme nel riconoscimento delle ci sta troviamo il riconoscimento della dignità delle persone e il valore dello sport italiano a partire dal CONI passando per tutta la filiera la grande filiera della nostra organizzazione grazie a Luca che ci ha ricordato proprio come è cambiato il linguaggio e come lo sport anche faccia cultura ma io dico sempre che lo sport è un mezzo per fare cultura e d'altra parte ci insegna anche a fare un lavoro un lavoro di squadra quando si parla di accesso allo sport che sia per l'olimpico o il paralimpico necessitano gli impianti ma necessita anche una cultura degli impianti ecco allora che io chiedo a Andrea Bodi presidente del credito sportivo che è sempre accanto non solo alle trasformazioni del nostro paese e come sottolineava il presidente Ciampi lo sport è anche ambiente e natura rispetto di ambiente e natura come conciliare questa carenza ancora che abbiamo di impianti e il diritto allo sport l'accesso allo sport in tutte le sue declinazioni grazie Novella buongiorno a tutti ma intanto consentimi qualche breve considerazione ringraziando Giovanni Malagò il CONI tutto Alberto Gambino Giulio Napolitano Vincenzo Iagoniani la rivista per l'opportunità che ci è stata data di collaborare in questo senso di gioco di squadra che noi cerchiamo sempre di ribadire e sottolineare perché non diamo nulla per scontato tanto più di questi tempi ad una prima valutazione si potrebbe anche pensare ma la rivista di diritto sportivo e l'istituto hanno una relazione stretta l'istituto l'abbiamo letto anche da questo numero si occupa da 60 anni di infrastrutture immateriali però sta scoprendo sempre di più l'importanza di rendere solide le basi di queste infrastrutture allora cara Novella il tema non è soltanto migliorare le infrastrutture è un tema affascinante modernizzarne renderle sicure renderle sostenibili diciamo che questo è un concetto che unisce un po' tutto ma fare in modo che continuino a essere frequentate ed essere frequentate anche nel modo più corretto più giusto e anche più numeroso e allora probabilmente le infrastrutture immateriali delle quali anche questa rivista fa parte diventano almeno tanto importanti quanto quelle fisiche e non va sotto valutato questo aspetto e la banca se ne fa in qualche maniera partecipe in questa voglia di essere parte di questa squadra perché per definizione la banca deve prima di tutto guardare al futuro la banca affida fiducia finanziaria da qui ai prossimi anni a volte vent'anni venticinque anni non possiamo limitarci a una valutazione del presente dobbiamo avere una capacità di recuperare il passato che peraltro ancora è ben presente e anticipare il futuro per fare in modo che questi impianti ancorché sempre più numerosi se serve sempre più adeguati necessariamente possano comunque accogliere adeguatamente le persone che dovranno entrarci mi ha sorpreso la tempesta di emozioni che mi ha provocato questa adesso non voglio usare un termine roboante comunque la lettura di questo di questa pubblicazione che ha rafforzato personalmente in me ma penso di condividere anche il pensiero di tutti i miei colleghi 190 colleghi che lavorano ogni giorno nel credito sportivo sull'utilità di intraprendere anche grazie al nostro supporto attività di questo genere ma anche di divulgarle di rendere partecipi di questi contenuti il più ampio numero di persone possibili anticipando anche anagraficamente perché questo non deve essere un patrimonio di pochi eletti professionisti esperti specialisti ma deve diventare secondo me didattica quotidiana deve diventare formazione informazione educazione sono tutti elementi che diventano determinanti oggettivamente ecco perché sono convinto che sia necessario rafforzare le basi delle nostre infrastrutture quello poi diventa un lavoro lasciami dire non dico banale ma di programmazione di grande coordinamento con le varie realtà che sovrintendono l'infrastrutturazione gli enti locali gli enti territoriali i soggetti privati che gestiscono ovvero le ASD le SSD le federazioni che comunque per noi sono un punto di riferimento insieme alle discipline sportive associate ma anche agli enti di promozione sportiva ed è questo il tempo tanto più dopo un anno e mezzo di difficoltà dalle quali usciamo nelle quali dobbiamo mettere a patrimonio queste esperienze anche l'impossibilità di fare sport ma anche di gestire lo sport perché altrimenti rischieremo di pregiudicare anche quel poco pochissimo che di buono c'è stato in termini proprio di allenamento delle coscienze di questa esperienza drammatica del nostro paese devo dire che ogni volta che leggo anche una sola frase di Giulio Onesti colgo la straordinaria profonda da un lato semplicità del linguaggio il peso specifico dei contenuti e l'attualità del messaggio da questo punto di vista ne parlavamo con Giovanni nei giorni scorsi mi auguro che sempre di più la fondazione Giulio Onesti riesca a svolgere intensamente profondamente la sua attività perché ce n'è più bisogno che in passato ce n'è ancora più bisogno che in passato e sono convinto che chi continuerà a guidarla chi la guiderà è stato il presidente Carraro adesso non so quali saranno le decisioni penso di sì che avrà una sua continuità con anche il tuo lavoro che c'è stato ed è stato un lavoro quotidiano la fondazione potrà essere un fattore di alfabetizzazione più di quanto possiamo immaginare leggendo questa storia che attraversa la vita del nostro paese attraverso le olimpiadi un'altra cosa ho compreso anche nella mia semplicità di approccio con la mia distrutturazione culturale ho colmato più di qualche lacuna leggendo questa pubblicazione la contemporaneità l'attualità la modernità non tanto e non soltanto dei giochi olimpici quanto dei messaggi olimpici dei valori olimpici e credo che sia ancora una volta fondamentale che senza sottostimare quelle settimane di grande competizione globale tra donne e uomini di tutti i paesi del mondo comunque abbia il sopravvento il valore che rappresentano perché quei 20 giorni 25 giorni quel mese di sport praticato è indubbiamente la dimostrazione plastica dell'eccellenza ma ciò che conta è che dà un senso anche a quel mese sono i valori che ogni atleta e ogni bandiera che sfila devono rappresentare e quindi l'impegno da parte nostra ognuno nel proprio ruolo anche noi nel ruolo di istituto che si occupa proprio di sport e tra l'altro anche di cultura è quella di non soltanto enunciarli questi principi e questi valori ma di praticarli in prima persona e di dimostrare che non diamo nulla per scontato perché a volte quando si vive per molto tempo in un contesto ci si abitua un po' all'idea quasi di una coreografia valoriale e invece bisogna stimolare e sollecitare un allenamento costante una formazione continua e anche una divulgazione sempre più profonda partendo da dove si parte tutti insieme dove siamo partiti tutti indubbiamente dalla scuola il resto dell'idea che un'ora di cultura ed educazione sportiva valgano come buon presupposto molto di più ma senza volerli mettere in competizione di un'ora di attività motoria perché ne sono il presupposto appunto perché senza quello non c'è l'altro o rischiamo di rendere tutto estremamente meccanico e nella compulsività soprattutto dei nostri bambini io credo che sia fondamentale che si semini fin dall'inizio il piacere di fare sport attraverso i suoi valori attraverso la sua narrazione i suoi racconti che questa pubblicazione riescono a esprimere e non soltanto per i tecnici voglio chiudere leggendo poche righe di un contributo di Giuliana Limiti qui sono tutti i contributi che vanno dal 1950 più o meno ad oggi e devo dire che non si sente il peso del tempo come ho detto a volte un po' si avverte la differenza del linguaggio ma i contenuti sono di strettissima qualità e quindi l'invito ad ognuno di voi è leggerlo anche se qualche pagina magari si legge un po' più velocemente Giuliana Limiti nel suo contributo sul piano educativo anche forse della sua esperienza di docente di pedagogia comparata all'Università di Roma dice sul piano educativo augurerei che dopo tante dichiarazioni di buone intenzioni finalmente si imposti una programmazione unitaria e globale che tenga conto della distribuzione del territorio delle attrezzature sportive delle infrastrutture sportive per utilizzarle nel modo ottimale chiamando la comunità a partecipare e godere al tempo stesso impostando una politica di valorizzazione che implichi l'educazione fisica nel concetto dell'educazione permanente cioè dell'educazione appunto continua tre elementi fondamentali che noi di tanto in tanto richiamiamo convennisticamente ma che dobbiamo cercare di praticare anche nella politica delle alleanze che dobbiamo cercare ogni giorno la protezione della salute oggi dovrebbe essere più di stretta attualità che mai io le chiamo lo sport una difesa immunitaria sociale spero che questo concetto entri culturalmente nella dialettica ma soprattutto nella prassi e nelle scelte della politica perché le difese immunitarie si rafforzano non si indeboliscono due lo sviluppo della personalità andiamo incontro pedagogicamente ad uno smantellamento dei presidi della personalità partendo da quella dei bambini attenzione ma dopo i gridi d'allarme se non vogliamo fare i notai di una situazione che degenera dobbiamo essere proattivi l'impiego del tempo libero o tempo liberato che dir si voglia che è un altro argomento comunque che diventerà ancora di più di stretta attualità e mi auguro che non sia soltanto il frutto della disoccupazione ma di un diverso modo di essere occupati queste sono le sfide di questi tempi questa rivista partendo dagli anni 50 li proietta nel presente e nel futuro mi auguro che con l'aiuto di tutti si riescono a combattere insieme e a vincere insieme e ringrazio grazie grazie Andrea e volevo ricordare comunque che con il professor Gambino la curatrice del volume è stata anche Stefania Rossi a cui va dato ovviamente il nostro più caloroso applauso non vuole non vuole intervenire mi ha detto prima io non parlo io non parlo però c'è il suo grande lavoro dietro proprio anche su questa su questa rivista che come sentiamo affronta tanti tanti aspetti che poi sono gli aspetti della nostra società quando si pensa appunto che i prossimi giochi olimpici ma come sono stati quelli precedenti o come sono sempre i giochi olimpici sono la vetrina di un paese anche su questo ci dobbiamo assolutamente concentrare e capire che anche questo momento come sottolineava Andrea Bodi è un momento particolare che un po' ci fa ritornare a quello che è stato nel dopoguerra perché in fondo noi siamo uscendo da una guerra contro un nemico invisibile però che ha condizionato la nostra vita ma tanti aspetti hanno condizionato anche i giochi olimpici come avevamo citato prima l'apartheid è a un certo punto la decisione del CIO di un esecutivo del CIO di far rientrare il Sudafrica all'interno dei giochi ma poi questa decisione proprio per le pressioni di tutto il mondo sportivo non è stato fatto e quindi questo succedeva proprio nel 1976 anno in cui Franco Fava disputava la sua seconda Olimpiade e quindi ha vissuto i vari momenti e poi ha seguito tutti i giochi olimpici in un'altra veste come giornalista quindi a lui questo compito di farci capire quanto questo passaggio importante nella storia dei giochi olimpici grazie novella visto che questa preziosa pubblicazione dedica un ampio spazio alla questione sudafricana questa mia è una testimonianza diretta su un'epoca che proprio a partire dalle Olimpiadi di Monaco 72 ha visto poi forti cambiamenti e aperture verso il diritto universale allo sport leggo brevemente quanto da mi scritto in un libro di vedo di sosta relativamente a Monaco 72 la nostra residenza a Conoli Strass al terzo piano della palazzina accanto a quella della squadra israeliana pochi giorni dopo sarebbe stato teatro del feroce attacco a tutta la squadra israeliana nel nostro appartamento siamo in sei con noi c'è anche Marcello Fiasconaro l'attreta italo sudafricano che gareggiava a Monaco 72 vivendo a Johannesburg con la maglia azzurra che firmò nel 73 molti lo ricorderanno ancora il regolo del mondo degli 800 metri e in una notte grazie alla nostra complicità Marcello riuscì ad ospitare di nascosto nel nostro appartamento il suo amico specialista dei 1500 sudafricano Fanny Banzil di nascosto perché il Sudafrica che era presente ai giochi fin dal 1908 ma non invitato alle Olimpiadi di Tokyo 64 e Messico 68 per la politica segregazionista e ci sono tutti questi passaggi nella pubblicazione molto interessanti era stato definitivamente espulso dalla famiglia olimpica proprio pochi giorni prima della cerimonia di apertura di Monaco 72 io ho appena vent'anni a Monaco e prima della gara non faccio altro che passeggiare tra le stradine del villaggio dove incontro atleti di ogni colore incontro atleti in tuta nera con su scritto Rhodesia di cui nemmeno sapevo tanto bene l'esistenza geografica sono una quarantina 38 per la precisione arrivati a Monaco convinti di poter gareggiare così come avevano fatto qui a Roma nel 60 e alle Olimpiadi successiva nel 64 a Tokyo tra questi solo 8 atleti sono di colore ma per l'opposizione di alcuni paesi africani al governo di minoranza bianca di Nia Smith vennero messi al bando dal CIO prima dell'inizio dei giochi di Monaco e questo nonostante la riduttanza dell'allora presidente del CIO Brundage ottennero soltanto di poter restare al villaggio per tutta la durata dei giochi otto anni dopo a Mosca lo sport rodesiano sarebbe stato riammesso come Zimbabwe con una squadra tutta bianca conquistarono uno storico oro nell'hockey su prato femminile tutte le giocatrici erano bianche si dice che lo sport anticipa la politica in verità si può dire che lo sport favorisce l'affermazione di un diritto universale politico sociale economico oltre che sportivo per il raggiungimento di quella eguaglianza che ancora oggi è negata in molte parti del mondo in questo senso lo sport e le olimpiadi hanno prodotto più risultati di quanto non abbiano fatto le sanzioni economiche e i bocottaggi politici le imprese del resto di Jesse Owens campioni icona e nipote di schiavi alle olimpiadi bellino trentasera presentano ancora oggi il simbolo di quei diritti rivendicati dagli afroamericani che a distanza di oltre tre quarti di secolo fanno fatica ad affermarsi così come dimostrano le croneche più recenti che ci arrivano dagli Stati Uniti la mia carriera sportiva due olimpiadi Monaco 72 e Montenegro 76 e tante altre come giornalista e quindi l'attività giornalista che ne è seguita hanno contribuito a formare in me il convincimento di come lo spirito olimpico possa davvero favorire il superamento di contrapposizioni politiche culturali razziali e religiose con una forza spesso superiore alla stessa politica quando nel 1974 fu invitata ad una tournée in Sudafrica confesso non conoscevo il significato del termine apartheid allora l'atletica mondiale era guidata dall'olandese Paul Henn e la IAF era resti a seguire le scelte fatte due anni prima proprio dal CIO a Monaco e quindi non mise al bando lo sport sudafricano ignario tutto questo mi ritrovai protagonista della mia prima apertura storica dello sport nei confronti degli atleti neri sudafricani quando a Pretoria partecipai ai primi campionati nazionali open di atletica l'altura mi impedì di vincere i 5000 metri il titolo andò al nero Tizumababula e ne fui contento le gare erano miste ma in tribuna bianchi e neri erano ancora rigorosamente separati per legge tornai a correre in sudafrica ancora l'anno dopo più per approfondire l'incredibile realtà del sistema segregazionista che per i risultati in pista seguirono anni bui per il sudafrica di isolamento sportivo e di drammatica repressione a montri al 76 scoppiò la grana del rugby neazolandese reo di aver intrattenuto rapporti con il sudafrica di fronte all'impotenza del CIO gran parte dei paesi africani lasciò il villaggio per far ritorno a casa di quel boicottaggio tutto africano si ricorda ben poco oggi fu triste però assistere alla dipartita di molti atleti la cui assenza finì per favorire il mio ottavo posto nella maratona boicottata dai corridori dell'altopiano per questo quando un giorno di febbraio del 1990 l'allora presidente sudafricano del Clerc annunciò l'intenzione di liberare Nelson Mandela fece un balzo sulla sedia allora era detto stampa della federa atletica internazionale guidata da Primo Nebbiolo mi precipitai nel sufficio romano in via delle tre madonne per comunicargli la notizia quello fu il primo timido passo verso il ritorno dello sport sudafricano nel consesso internazionale tre mesi dopo feci parte della prima delegazione ufficiale della IAF che si ricò a Pretoria nel tentativo di rendere più democratica la composizione della federa atletica sudafricana il proposito di Nebbiolo era quello di riammettere il paese ai mondiali di Siviglia del 91 anticipando così il ritorno 32 anni dopo degli atleti sudafricani all'Olimpia di Barcellona 92 come in effetti poi avvenne leader di riammissione non fu semplice nemmeno mettere d'accordo le varie componenti dell'atletica sudafricana negli incontri conobbi una realtà molto complessa i leader politici che fino ad allora erano a me sconosciuti nell'atletica come in tutto lo sport sudafricano in quel periodo non assistemmo ad una vera rivoluzione ma una evoluzione significativa di un sistema organizzativo che comunque andava salvaguardato stavolta senza alcuna distinzione di razza tra bianchi africani colori e neri le trattative furono lunghe e nebbiolo fu costretta a rinunciare ai sudafricani e mondiali di Siviglia ma nella primavera del 92 quattro mesi prima dell'Olimpia di Catalana convinse le autorità sportive di Pretoria a organizzare i primi giochi dell'unità anche grazie all'influenza sull'Africa National Congress di Sam Ram Sami che pochi anni dopo sarebbe diventato membro CIO e vicepresidente della FINA gli Unity Games furono un successo partecipai all'incontro tra la delegazione della Fede dell'Atletica Mondiale e Nelson Mandela cosa mi colpì di Mandela? le sue parole sui valori dello sport sono andato a ripescare alcuni appunti di allora alcune frasi che mi colpirano di Mandela quando disse lo sport ha il potere di cambiare il mondo ha il potere dei governi ha più potere dei governi nell'abbattere le barriere razziali lo sport ispira e unisce lo sport crea speranze laddove prima c'era solo disperazione il Sudafrica era tornato a pieno diritto nel mondo olimpico come aveva fatto prima l'ex Rhodesia ma sul campo la realtà era ancora molto diversa con sacche di diseguaglianze non solo economiche e sociali ma soprattutto di accesso allo sport nel 1995 ospire dell'allora presidente del CIO Giovan Anton Samarans seguì gli All African Games che si disputarono lo Zimbabwe lo storico presidente del Comitato Olimpico Internazionale visse con un certo orgoglio quella manifestazione simbolo della ritrovata democrazia in tutta l'area dell'Africa australe molta strada però era ancora da percorrere perché nelle delegazioni di Sudafrica Zimbabwe Zambia e Namibia appena il 10% degli atleti erano di colore esattamente mezzo secolo fa proprio di questi giorni la diplomazia del ping pong di Nixon fu mosse i primi passi verso il riavvicinamento della Cina popolare al mondo occidentale ma fu grazie alla lungimiranza ancora una volta di nebbiologo che la Cina poté tornare a pieno titolo con i suoi atleti nelle manifestazioni internazionali nella storia della politica sportiva ha ancora rilevanza il quadrangolare di atletica che si disputò qui allo Stato Olimpico di Roma nel giugno del 75 con la prima presenza ufficiale della Cina in Occidente dopo l'ultima apparizione olimpica che risaliva a Helsinki 52 allo Stato Olimpico con Italia e Cina anche la Spagna degli ultimi mesi di Francisco Franco e la Romania ancora ben salda nelle mani di Ceausesco Nell'84 1984 11 anni dopo quel quadrangolare di atletica in Roma la Cina popolare tornò a sfilare sulla pista del Coliseum di Los Angeles quella fu soltanto la quarta presenza ai giochi oggi 24 anni dopo l'Olimpia di Estiva oggi 24 anni dopo quel 1984 l'Olimpia di Estiva sarebbe andata a Pechino nel 2008 sul tema dell'eguaglianza l'ultima conquista messa a segno dal CIO è stata la parità di genere e lo confermava anche il Presidente Malagò quando ha annunciato gli ultimi numeri dei passi olimpici italiani a Tokyo la percentuale dell'atlete sarà da record e raggiungerà la piena parità uomini e donne fra tre anni a Parigi se in pista in acqua e sui campi è già stata raggiunta l'uguaglianza tra sessi sono incoraggianti i progressi di questi anni che si sono visti a livello dirigenziale come lo confermono i cambi di passo recenti sia del CONI che del CIO concludo la prossima sfida che attende tutto lo mondo dello sport olimpiadi in primis è relativa agli atleti transgender come coniugare cioè anche nell'agonismo e nello sport il rispetto dell'identità di genere con la piena e ufficiale partecipazione degli atleti trans un tema questo già fortemente divisivo nella nostra società che ha preso a scuotere anche tutto il sistema sportivo con le sue regole le sue leggi e i suoi diritti inviolabili che sempre meno sembrano scritti sul marmo grazie per l'attenzione grazie grazie Franco che lancia evidentemente un argomento al direttore Iacovanni ma anche a tutti i giuristi per affrontare quest'altro problema come che sicuramente farà discutere ma io volevo un po' ritornare a quella a quelle pagine che mi sono tanto piaciute dei presidenti della Repubblica che trovo come è stato più volte sottolineato di grandissima attualità perché c'è un life motive che è continua c'è l'importanza dello sport il sogno e credo che oggi come dicevo prima è un aspetto molto importante e poi mi è divertito vedere nel leggere nel discorso del presidente Leone che riportava una frase di San Paolo consumavi fidem serbavi siccome io allora facevo il liceo mi tirò in causa e mi disse vediamo se sai la traduzione e quindi io di fronte a tutta la squadra olimpica ho dovuto tradurre quello che importa non è aver compiuto il percorso ma aver mantenuto il giuramento il giuramento l'ha mantenuto sicuramente Francesco Postiglione al di là di aver tradito il nuoto per la palla a nuoto avendo affrontato quattro olimpiadi nasce nuotatore e poi devia verso la palla a nuoto però il suo impegno nel mondo dello sport continua nel come avvocato io vorrei capire qual è l'impostazione che ti ha dato proprio l'aver vissuto così a lungo l'attività sportiva in quello che è stato poi il tuo percorso perché di professionista perché credo che questo sia uno degli elementi anche che lo sport dà riferendomi anche a quello che ha detto Abodi cioè l'eredità la cultura e le strutture materiali ma le strutture immateriali diciamo che sono fanno parte della cultura che vanno ovviamente a braccetto grazie Noele innanzitutto ringrazio per l'invito e sono onorato di essere con un un parterre così importante io che mi reputo diciamo un artigiano un artigiano del diritto facendo appunto la professione facendo l'avvocato e essendo spinto da sempre da una grande passione la passione per lo sport del ragazzino che e quindi vengo anche un po' a rispondere alla tua domanda mi ha formato innanzitutto come individuo e dandomi quelle regole fondamentali che poi alla fine hanno portato alla nascita dell'uomo e poi del professionista dopo quindi devo davvero tanto appunto alla mia formazione è chiaro che in un mondo dove le regole sono fondamentali non può esserci il diritto e quindi l'ordinamento di cui in precedenza anche il professor Napolitano parlava di quell'ordinamento importante che già da Giannini ma anche da Santi Romano negli anni 49 e 47 si è formato che oggi fonda proprio l'ordinamento sportivo così come non non posso non citare quello che giustamente ecco è l'autonomia dell'ordinamento dell'ordinamento sportivo che è un tema anche di di grande attualità dove probabilmente visto che poi ecco di riforme ce ne sono state anche tante che hanno portato a racchiudere ed a essere far sì che ecco la una rivista così importante per noi debba continuare a vivere e sono contento che ciò avvenga deve essere appunto un riferimento e far sì che sicuramente parlare e porre in essere un tavolo di concertazione proprio per consentire a chi probabilmente si sporca le mani quotidianamente venga ascoltato e venga sicuramente diciamo preso in considerazione prima di di porre in essere determinate accorgimenti che ci possono essere accorgimenti che nel corso del tempo ci sono state ma in un in una materia abbastanza complessa abbastanza ruvida che abbraccia il privato il pubblico e soprattutto dove talvolta e lo dico sempre da ecco da operatore della della materia talvolta e prima forse ecco di qualche anno fa c'era anche c'erano abbastanza contraddizioni antinomie talvolta anche delle lacune sicuramente già con la riforma già nel 2018 c'è stata quella volontà da parte del CONI di mettere mano anche alla giustizia ecco che è un tema importante nel quale noi avvocati soprattutto andiamo alla ricerca di quelli che possono essere ecco i precedenti che possono essere importanti per far sì che tutti poi gli statuti siano stati uniformati ai principi informatori quindi proprio perché il diritto e quindi le norme vengano scopronamente osservate e in questo anche per rispondere alla tua domanda Novella a me un tema che sta molto diciamo a cuore è quello del diritto allo sport perché è fondamentale nel tessuto sociale non voglio ecco tediarvi ulteriormente penso che siamo a fine lavori quindi sarò breve però sono fermamente convinto che accanto a quello che può essere l'educazione scolastica familiare ci deve essere l'educazione sportiva e quindi talvolta girando un po' anche l'Italia sento che non c'è questo questo binomio scuola sport e talvolta il confine non è ben delineato e questo è un peccato perché talvolta possiamo perdere talenti possiamo perdere ragazzini o ragazzine che possono essere appassionate o stimolate da un sacrificio che oggi con l'avvento dell'età moderna è un po' non così presente nei giovani d'oggi e quindi facilitiamo ci sono già dei percorsi anche normativi in questo però probabilmente sarebbe auspicabile che ciò venga incrementato proprio per consentire all'individuo di formarsi sotto l'aspetto della cultura e sotto l'aspetto poi della mente mensana incorpore sano sappiamo bene il significato perché ecco soltanto con i valori sportivi con i principi sportivi sicuramente la persona può essere una persona migliore e penso che in questa sala ce ne siano tante belle testimonianze quindi io ringrazio e soprattutto conservo gelosamente anche al mio studio tanti numeri della rivista diritto sportivo anche diciamo dagli anni 90 ma ecco avete ricordato giustamente Giulio Onesti che fu se non erro il fondatore di questa rivista e quindi continuiamo su quella su quel solo che creiamo per noi giuristi uno strumento che possa essere utile nell'interpretazione del diritto sportivo grazie 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 Francesco grazie a tutti a questo punto credo che non rimanga che ringraziare tutti ovviamente iniziando dal padrone di casa dal presidente Malagoma al membro onorario del CIO Mario Pescante soprattutto che ha passato molti anni della sua vita in questo palazzo nei vari ruoli al professor Gambino e a Giulio Napolitano e oltre che ovviamente alla dottoressa Rossi che ha potuto far arrivare a noi questo preziosissimo volume a credito sportivo a tutti coloro che sono intervenuti al direttore a Luca Pancalli per il suo sempre efficace contributo a Franco Fava che ci ha raccontato un pezzo di vita vissuto e direi che un applauso particolare va fatto a Marina Giannetto forse insisto ma questa raccolta dei discorsi dei presidenti della Repubblica sono un patrimonio che forse dovrebbe essere distribuito anche nelle scuole proprio per far conoscere attraverso le loro parole non solo la storia dello sport ma anche la storia dell'Italia e questo credo che sia importante come è importante l'abbiamo detto tutti l'avete detto tutti il diritto allo sport e anche un cambio di nome a questa educazione fisica in educazione sportiva perché è un'educazione molto più ampia che non riguarda solo il fisico grazie a tutti buona serata sulla comunicazione Enzo Iacogliani la scorsa settimana mi è venuto a parlare di un po' di cose sta partendo tutto il processo anche di digitalizzazione a prescindere da quello che ha detto Francesco insieme grazie Andrea Bodi grazie credo sportivo a di là del piacere la gioia di avere appunto questi volumi negli studi non solo professionale che credo che siano tanta roba grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti